a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono technology g mi potete seguire sui vari social che trovate in descrizione allora ragazzi oggi al boxing di nuovo power back che mi sono preso ora andiamo a vedere all'interno della confezione cosa troviamo queste power bank da 20 mila con ricarica veloce in cui abbiamo tre uscite porta usb tipo c anche per l'iphone se lo volete sapere abbiamo una porta da 22 watt una per da 18 watt e un'altra porta da 20 watt poi abbiamo anche una luce con un tasto qui per accende il power bank due volte con il tasso alla notte solamente possiamo utilizzarla tranquillamente abbastanza compatto abbastanza piccolo da 20 mila miglia ampere e abbastanza di spessore molto molto piccolo sembra basta sembra abbastanza pesante in mano della marca e new ormai la marca union sta facendo prodotti sempre più buoni sempre efficaci garanzia di tre anni se lo acquistate veramente è ottima come cosa abbiamo cavo usb tipo c all'interno della confezione abbiamo un altro cavetto credo per l'adattatura e poi abbiamo all'interno della custodia il manuale delle istruzioni in tutte le lingue del mondo per farvi conoscere bene il power bank mi fa circa 7 8 ricarica con questo qua non avete problemi di telefono se avete tempo sempre il telefono scarico lo utilizzate molto sicuramente questo tipo di power bank fa al caso vostro ragazzi con questo è tutto ci vediamo in nel video completo con la recensione completa su questo nuovo power bank uscirà anche il video completo su un portafoglio che mi sono preso e altri prodotti che vi voglio far vedere da tecno gg ciao ragazzi